Lei è qui da quando ha due anni, ha studiato in Italia, si è laureata molto bene in un'università italiana, ma loro sono in realtà la vera risposta, la risposta del problema sono gli italiani di seconda generale, di fronte ai quali la politica scappa vergognosamente. Aspettate calma, italiani senza cittadinanza. Ma perché si sente chiamato in causa subito Federica? Subito prendere anima, Federica, calma. Non ha fatto la domanda di cerdinanza semplicemente, non è polemica. Non ho capito. Se a 18 anni ha fatto la domanda per diventare cittadina italiana, solo questo volevo domandare. Le ha fatta la richiesta della cittadinanza, Ailam? Bene, ringrazio la comune per l'intervento. Non ho fatta la domanda per il semplice fatto che la risposta sarebbe stata palesemente quella di vedermi rifiutata la mia istanza.